Il ruolo di tester, considerando che farò comunque anche un po' di gare, quindi diciamo che è un ruolo pilota tester, è un ruolo penso fondamentale, molto importante e noi di Aprilia e tutto il reparto corse annuale stiamo lavorando tanto per cercare di far migliorare sempre di più la moto. Il livello è altissimo, siamo in crescita e stiamo migliorando gara dopo gara e turno dopo turno. Sono rimasto molto piacevolmente colpito da tante persone che mi hanno iscritto nei momenti difficili, mi fa davvero molto piacere, continuate a farlo perché vi leggo e io cercherò di arrivare in alto, per voi davvero fa tanto piacere il calore del pubblico e del tifo. Quest'anno farò 5 wildcard, quindi comunque farò diverse gare, sarà un anno importante anche per me per prendere sempre più confidenza con questa categoria e non vedo l'ora di iniziare. Grazie a tutti.